Lasciamo la cronaca per parlare della nuova banca in città. Per la Popolare di Prato arriva il via libera della Consub. La Banca Popolare di Prato muove un altro passo in avanti. La Consub ha fornito stamattina al Comitato Promotore della Banca Popolare di Prato l'autorizzazione ad iniziare la raccolta del capitale per costituire questo nuovo soggetto creditizio. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha validato il piano industriale della banca in meno di tre mesi, un lasso di tempo molto breve rispetto a quanto avvenuto per altre iniziative simili. La Costituzione della Popolare di Prato passa in primo luogo dalla raccolta del capitale sociale, minimo 10 milioni di euro, massimo 15. Come previsto dalla normativa vigente, la quota minima per diventare soci sottoscrittori è 2.500 euro, la massima all'1% del capitale sociale, sottoscritta al termine dell'offerta. La Consub ha autorizzato l'inizio della raccolta per lunedì mattina, 25 novembre alle 10. A partire da quella data sarà possibile compilare l'apposito file presente sul sito comitato promotore e banca popolare di Prato.it e acquistare un'azione della banca. Solo quando sarà terminata la fase di raccolta, ovvero il 24 novembre 2014, e se sarà stato raggiunto il capitale minimo, ovvero 10 milioni di euro, l'investitore sarà chiamato a effettuare il versamento. Il comitato promotore avrà quindi un anno di tempo per raggiungere il capitale minimo.